Ragazzi, buonasera, vlog, vlog in macchina mentre torno a casa, sono le 21.20 e questo è l'orario che torno a casa di solito perché mi spiego dopo con calma Sono stanchissimo, lo si idrata la faccia Allora, sono stanchissimo ragazzi, ma questo è un video importante e vorrei che voi lo condivideste, più persone possibili Passaste la voce tra di voi e tra i vostri amici e lasciate un like giusto per conforto Ragazzi, due informazioni importantissime La prima è che venerdì sera, venerdì questo, quindi venerdì 21, 22, 23, sì venerdì 21 ragazzi Venerdì 21 la sera, verso le 7 e mezza circa ci sarà il ritrovo, ci sarà una pizzata Quindi chi volesse stare una serata con noi, a ciacerare tra di noi, conoscerci, non lo so Può venire tranquillamente, la pizzata costa 15 euro a testa La faremo nel lago Pianeta Verde, per chi si ricorda, dove fece il mio primo e unico raduno due anni fa Quindi una bella pizzata tutti assieme, mangiamo, ci divertiamo Nei 15 euro, logicamente, c'è il giro pizza e la beveranda Quindi, per chi è interessato, ragazzi, è via Bucinasco 45, lì trovate Cristiano Dite, uè, mi manda Luque, mi manda Luque, mi manda Luque E poi per la pizzata, quindi questi giorni potete andare lì, pagare, prenotarvi, ok? O potete farlo anche direttamente da me, cioè, ossia, vi prenotate da me, ma poi pagate a lui Perché io non c'entro nulla con i soldi, quindi non c'entro nulla con me Questa cosa non è una gara di pesca, ma è semplicemente, appunto, una pizzata per stare con voi Questa è la prima cosa importante, quindi venerdì 21, ricordatevi, posso venire anche i vostri genitori Vi ricordo, è 15 ore a testa, o vi fate accompagnare, non lo so, da qualcuno Ci troviamo lì, può venire chiunque, non solamente il fan, può venire anche sorella, nonno, zio, un amico, qualsiasi persona Ci ritroviamo lì, ditemi i commenti, oppure potete tranquillamente, ovviamente Instagram, magari è meglio Per informazioni, per la pizzata, indirizzi, eccetera Dato questo, ragazzi, vi voglio annunciare la nuova gara E non solo la nuova gara, è una mega gara, ora vi spiego, sono un po' buio ragazzi, ma è sera È una mega gara, ed è domenica, domenica 23, dalle 9 alle 12, ritrovo alle 7 e mezza Quindi per info, mi raccomando, o su Instagram, o mi raccomando, al numero che o metto qui nel video O in descrizione, telefonate o mandate un messaggio whatsapp Per ricevere informazioni sulla gara, o iscrivervi per prenotare il posto Ci sono, adesso non ricordo quanti posti disponibili, comunque sono un bel po' La gara costa 35 euro questa volta, perché ci sono dei premi favolosi Primo premio assoluto Poi, vabbè ragazzi, i dettagli vi spiegherò magari nel video di Pesca, nel canale di Pesca, andate lì Primo premio assoluto è un hoverboard, dal valore di 400 euro, con casse, quindi ci potete mettere la musica anche dentro addirittura Qui c'è il telecomando, che vi faccio vedere il telecomando, ce l'ho in tasca, perché ho dovuto mettere la pila Così almeno chi lo vince, lo vince già con la pila, vi faccio vedere Anche sto guidando, sono stanchissimo Eccola qua, questo è il telecomando ragazzi Siamo al telecomando della macchina, ma è il telecomando dell'howerboard, pensate un po' Da qua potete togliere la musica, mettere la musica, spegnere, accendere e cose varie Dunque, domenica c'è questa mega gara ragazzi, il primo premio assoluto è quello lì Il secondo premio è un tondo, non so come si chiama, di formaggio sardo, probabilmente proprio dalla Sardegna Che offre il bar lì della Cavetta, che è l'isola azzurra Un grande abbraccio e saluto a Gianni che ci ha offerto questa cosa, del negozio E Luca, che è il nipote, grande Luca, ti voglio bene Se guarderei questo video, chiamami Allora, ci chiamano, mi sento Whatsapp e mi dicevo, voglio un, l'ha già visto Non è sardo, che è napoletano Comunque, il secondo premio assoluto, l'assoluto sarebbe il primo tra i primi Perché sono diversi settori, poi ci sono i premi settoriali, dei settori Per esempio, primo premio dei settori è un kit di carfishing Canna, murinello da carfishing ragazzi, ma cos'è, ma cos'è lo dico a fare E poi altri premi che vedrete In gara, domenica, domenica 23 ragazzi, non è che viene solamente chi gareggia Possono venire anche amici, parenti, anche solo fan, chiunque, chiunque Loginamente chi non pesca non paga Ci sono tavoli, sedie, bla bla Ci sarà la gara, poi ci sarà la premiazione, poi ci sarà forse una lotteria, vedremo qualcosa ragazzi Ci sono diverse cosette Dunque, queste sono le cose importantissime che volevo dirvi, ora parliamo un po' di me Ditemi nei commenti, hashtag, no senza hashtag, fanculo è hashtag Ditemi nei commenti, gli hook sono arrivato fino a questo punto, perché ora parte la parte seria Perché sto rientrando a quest'ora ragazzi? Perché sto lavorando, come sapete ho iniziato da poco un nuovo lavoro Faccio il magazziniere e scaffalista da Brico Al centro commerciale Brico, un mazzo così ragazzi, un mazzo così Alle 6 del mattino si inizia, non alle 6 del mattino si entra, alle 6 del mattino devono essere operativi Quindi 5.50 lì dentro, negli spogliatoi, alle 6 operativi Per esempio stamattina ho fatto il reparto vernici, quindi alle 6 del mattino a correre Perché bisogna fare il lavoro, non è tanto a ore ma è a produzione, quindi più si corre più si produce E prima te ne vai a casa E... Stamattina ho il reparto vernici, quindi Sacchi di cemento, stucchi, vernici, smalti, collanti, incollanti, isolanti Tutta roba pesantissima Alle 6 del mattino, pensato un po', finito, stanchissimo Una volta finito di lavorare tutti i giorni, con Manuel Non andiamo a casa, ma andiamo direttamente in cava, nella cavetta Non della pizzata di venerdì, ma nella cavetta della gara di domenica Che è via Fagnana a Bucinasco, provincia di Milano L'ho attaccato a Milano, vicinissimo ragazzi Non potete sbagliare, ecco Comunque questa è la quarta gara consecutiva A tutti i partecipanti C'è addirittura persone che partecipano a tutte le gare Vi voglio un mondo di bene Sia per il sostegno Che poi per la compagnia, eccetera Stavo litigando Stavo dicendo, ah sì, stanco morto Finito il lavoro, andiamo direttamente in cava Tutto il giorno, ecco perché torno a quest'ora Perché molti di voi vengono a bere il caffè Molti di voi vengono a conoscersi A conoscerci Molti di voi vengono a chiacchierare Molti di voi vengono a pescare Molti di voi vengono a imparare Molti di voi vengono a insegnare Molti di voi vengono Non pensate male Infatti maliziosi Dunque Vi aspetto anche domani Oggi, guardate questo video Tutti i giorni in cava, eh Io finisco il lavoro e sono lì Ragazzi Stanco Un bacione, un abbraccio Vado a casa, mi metto a letto E domani Se ricomincia la routine Da Luca e tutto Venite alla pizzata di lunedì sera Mi raccomando Mi raccomando Scrivete nei commenti Io ci sono una pizzata Per chi è veramente interessato Poi Connotatevi su Instagram E o venite in cava O andate direttamente in cava Da Cristiano Mi raccomando Cristiano o Franco Ditemi manda Luke Devo prenotare la pizzata di venerdì Quindi buon voto Un bacione Un abbraccio Stavo ballottando Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti